In occasione delle celebrazioni degli 800 anni e dell'impressione delle stimmate di San Francesco d'Assisi, la diocese di Città di Castello, insieme alla fondazione Palazzo Albizzini e Collezione Burri, si uniscono per dare vita ad un progetto nato per celebrare e rileggere, alla luce dell'attualità, il prodigioso evento avvenuto sul monte della Verna nel settembre 1224. Il progetto, presentato sabato 26 ottobre, prevede tre eventi che si terranno nella cattedrale nei giorni che precedono i festeggiamenti per i santi patroni San Florido e Sant'Amanzio. Abbiamo scelto la più grande, la più importante opera dal punto di vista fisico che Burri abbia mai realizzato, uno scenario di quella che è stata la dramma di Ignazio Silone, l'avventura di un povero cristiano. In quella circostanza il primo atto recava questo grande quadro scenico di un sacco. Quest'opera è importante non solo per la sua struttura formale, che è cruciforme in qualche modo, nel senso che è quadripartita, è un'immagine, ma essendo realizzata con un tessuto che è l'aiuta, il sacco, è stata vista spesso in connessione con quello che Francesco ha indossato, un saio povero. Dal 7 al 10 novembre sarà esposta una delle più grandi opere di Alberto Burri, realizzata nel 1969, quale fondale scenografico per il primo atto del dramma di Ignazio Silone, l'avventura di un povero cristiano. Il quadro scenico è il più vasto sacco mai realizzato dal maestro. Questa occasione, mi permetto di dire, troneggerà all'interno, nella parte alta dell'abside, del catino absidale della Basilica Cattedrale, e sarà quindi possibile per tutti i visitatori ammirare sia l'opera in se stessa che anche il connubio che si viene a creare, questo dialogo tra un'arte contemporanea e l'arte più antica, che rappresenta peraltro il tessuto artistico nel quale Burri nasce, perché Burri proprio nasce fisicamente a Città di Castello e quindi tra le prime cose che vede c'è l'arte pubblicamente esposta nelle chiese. Domenica 10 novembre alle 17, la Cattedrale ospiterà il concerto L'Estimate, oratorio per soli, coro e orchestra, composto nel 1997 da Fra Giuseppe Magrino ed eseguito per la prima volta dalla Scuola Cantorum Anton Maria Abbatini e dalla Oida, orchestra instabile di Arezzo. La Scuola Cantorum Abbatini della Cattedrale Città di Castello ha accolto con vivo entusiasmo la proposta di padre Giuseppe Magrino dell'Ordine Frati Minori Conventuali, maestro emerito della cappella musicale della Basilica di San Papale di San Francesco in Assisi ad eseguire, a dare la prima genitura alla sua opera, l'oratorio, dedicato all'estimate. Quest'opera fu composta da Giuseppe nel 1997 ed ancora non era stata mai eseguita. Unitamente alla Diocesi e alla Fondazione abbiamo creato un evento importante per la celebrazione, anche qui nella nostra città di Castello, dedicato agli 800 anni dell'estimate di San Francesco. Capota